Uno spazio dedicato alla musica, al teatro, alla danza, all'arte e alla creatività per puntare i riflettori sulle professioni della cultura. Aperti ufficialmente dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall'assessore regionale alle industrie e turistiche culturali Loredana Capone i lavori del Polo delle Arti e della Cultura, realizzato da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Tra le novità dell'ottantunesima edizione della Fiera del Levante. Questa acquisizione passa attraverso il lavoro di tante persone che hanno favorito la creazione di questo luogo. L'istinto di tutti noi è quello di vedere anche in futuro questo posto come un luogo destinato ai mestieri, all'arte ma soprattutto alla professionalità che serve per lo spettacolo dal vivo, diciamo così. perché qui di fronte c'è la Puglia Film Commission e forse naturalmente questo può diventare il polo delle arti visive e dello spettacolo dal vivo. Lezioni, masterclass, laboratori animeranno per tutta la durata della campionaria il Padiglione 115 che accoglierà partecipanti e visitatori in un viaggio nella filiera dell'arte e della cultura della Regione Puglia. Tra le altre iniziative in esposizione una mostra di abiti di scena a cura della Fondazione Lirica Sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari, spazi di promozione e diffusione delle attività del sistema regionale delle arti e della cultura e la presenza dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. L'Accademia alla Scala ci ha fatto questa bella proposta che noi abbiamo raccolto con piacere di tenere qui le lezioni aperte e di allestire proprio una parte di questo padiglione finalizzandolo alle lezioni aperte. Il 17 ci sarà anche l'Etoile della Scala, ci sarà Nicoletta Manni e noi pensiamo che davvero la proposta integrata di danza, musica, spettacolo dal vivo, teatro e cinema possano costituire una Puglia che si manifesta con il massimo della creatività che i singoli talenti hanno, ma insieme.